4.300 fuochi d'artifici illegali e pericolosi del peso complessivo di oltre 260 kg, 4 arresti e 2 denunce. Questo è il bilancio di una vasta operazione portata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, i finanzieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno scoperto a Casannuo di Napoli una fiorente attività di commercio di botti illegali del tipo Cobra, sequestrati 2.100 artifici pirotecnici altamente pericolosi del peso complessivo di 117 kg e con massa attiva di 52 kg, prodotti artigianalmente detenuti in maniera non conforme, tratto in arresto un sessantenne. In un secondo intervento le stesse fiamme gialle unitamente ai colleghi della compagnia di Portici hanno sequestrato 1.044 fuochi illegali del tipo Rentini detenuti dal titolare di una dita individuale di Ercolano. Anche in questo caso il materiale esplosivo del peso di 33 kg era detenuto illegalmente all'interno del magazzino, denunciato un 66enne di Ercolano. Nel corso di un terzo intervento i finanzieri della compagnia di Giuliano, in stretta sinergia con quelli della compagnia di Portici, hanno individuato ad Ercolano un commercio all'ingrosso di botti pirotecnici proibiti, traendo in arresto un sessantenne di Ercolano, un trentenne e un ventisettenne di Napoli. Infine nel corso di una quarta operazione i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno notato un soggetto che trasportava alcuni pacchi di grandi dimensioni all'interno di un magazzino. I finanzieri ne hanno prima controllato il contenuto rinvenuto a artifici pirotecnici di categorie F1 e F2 e hanno poi esteso le perquisizioni all'interno di un magazzino di Erzano, scoprendo 1164 artifici pirotecnici pericolosi, denunciato un 34enne di origine cinese.